Serginho, buco interno, Serginho! 6 a 0! Non ho mai visto una cosa del genere in un derby! 6 a 0! Non ho mai visto una cosa del genere in un derby! Chi può entrare in Champions? Chi si riscatta? Chi è in Milano? Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Inter Milan, in derby! Vediamo però subito le formazioni! Siamo qui! e quindi se ci sono dei maghi abbiamo detto che la fascia laterale è quella che risolve la partita di questa sera Serginho ha già dimostrato in due occasioni sulla sinistra può andare Everwood, punta Everwood, punta, punta, punta ancora, viene avanti ancora, potrebbe tirare, metti in mezzo Comandini, il gol, Comandini dopo due minuti e 40 è la messa, sentenza Comandini, è sentenza Comandini la messa sentenza Comandini, caro fedele, sentenza Comandini Di Rossi, immagina Abbiati cosa poteva pensare, visto quello che è successo a Perugia il traversone verso 100, Comandini, Gianni, Comandini, 2 a 0, 2 a 0, incredibile Amici, l'asse, all'asse di sinistra, Serginho Comandini gli eroi di questa partita al diciottesimo del primo tempo perché tutti i due gol sono nati da là Va sul fondo, mette in mezzo, pallone dentro, attenzione, colpo di testa Gol, Comandini, è il secondo gol di Comandini al diciottesimo, gol Una grande inizio di secondo tempo dell'Inter perché sicuramente devono tentare tutto per tutto che è mollato e libero, spinto a Ede, Federico, Giunti, 3 a 0 Incredibile gol preso dalla difesa dell'Inter, una palla che sembrava innocua Orvida, attenzione, e c'è il gol di Giunti, Giunti ha segnato il gol, 3 a 0 per i ragazzi Serginho viene palla sulla parte opposta Va fino in fondo, Serginho lo serve, andi Serginho 4 a 0 Capotto Signori, l'eroe Serginho ancora una volta propizia un gol spettacolare In questa partita si voleva anche questo Qualcuno pensava che fosse un inserbiente Si, voleva il pallone Ma non voleva più, voleva interrompere la partita Ecco cosa voleva fare, quello era il suo grande gesto Galanzi Szevchenko Ai ai ai, 5 a 0 E' la sconfitta nel derby Più pesante della storia dell'Inter per adesso In avanti Kaka, in avanti Kaka Faccia di sinistra, metti in mezzo il pallone I gol, 5 Szevchenko 5 E poi, scala reale Scala reale Cioè è un'umiliazione in questo momento La quale bisogna reagire, in qualche modo bisogna reagire Serginho, buco interno Serginho 6 a 0 Non ho mai visto una cosa del genere in un derby 6 a 0 E' brutto da dire Però se a 0 ci si viene Serginho va Sono davanti al portiere Gol 6 6 a 0 6 a 0 6 a 0 Serginho 6 a 0 Ma dove siamo? 5 a 0 E' brutto da dire Grazie a tutti.